Un avvistamento si è verificato di recente a Positano, ci troviamo in Campania, precisamente in provincia di Salerno, dove pensate un uomo cane è apparso tra i diversi turisti, cammina a quattro zampe con un guinzaio. Non vi preoccupate, non è una carne parale, è semplicemente un momento di fetish, che fa parte del BDSM. Infatti pensate che se vede questo uomo cane viene chiamato nel linguaggio tecnico pet play, che per l'appunto abbaia, cammina a quattro zampe e indossa un collare. Si tratta ovviamente di un essere umano in piena regola, non si tratta di un animale, e si tratta per la precisione di una fetishizzazione, ripeto, di un essere umano che imita il comportamento esatto di un cane. Potrebbe esserci qualcosa dietro a questo comportamento, c'è semplicemente del fetish, non c'è nezz'altro. Dunque questo è quanto il biodermin acqua, il fatto si è verificato, ripeto, a Positano, provincia di Salerno, regione Campania. Ciao a tutti, è un narratore italiano.